Il progetto di cui l'Università di Teramo è capofila è stato finanziato dal Ministero per 90.000 euro e riguarda diversi ambiti, l'ampliamento dei laboratori didattici presso la struttura museale, la valorizzazione del giardino storico di pertinenza della villa Capuani-Celommi, l'alternanza scuola-lavoro, la formazione dei docenti. Segna un ulteriore passo verso la valorizzazione delle risorse del territorio. Le risorse del territorio sono rappresentate non solo dal palazzo storico e dall'orto botanico che vengono valorizzati, ma mi permetto di dire anche dall'Università che ha raccolto questa sfida insieme agli altri enti. Il percorso artistico è sviluppato attraverso le collezioni riguardanti opere d'arte di illustratori della Divina Commedia. Il percorso storico muove da reperti appartenuti al medico pediatra Mario Capuani, martire della Resistenza. La fondazione ha delle collezioni preesistenti di stampe che illustrano la Divina Commedia, stampe importanti, anche Salvatore Dalì, e poi c'è una parte che riguarda tutta la parte naturalistica che non può stare in giardino. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma digitale che sia fruibile attraverso la rete, che quindi faccia conoscere le collezioni interne e esterne, cioè i giardini e la collezione museale, e che possa essere fruibile appunto dalla rete ma che si attiva anche all'interno del museo. Il percorso naturalistico florovegetazionale si sviluppa sia all'interno dell'immobile che all'esterno, nell'orto didattico e nel giardino storico. Noi ci occuperemo del giardino con recupero di specie autottone e la valorizzazione per esempio di specie da frutti di bosco, e in più cercheremo di mettere su un giardino di piante officinali perché Villa Capuani, l'eroe della resistenza Capuani, studiava e curava attraverso i principi attivi delle piante officinali.